Ciao ragazzi, sono FireBet e per tutti questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi siamo qui per fare un video speciale Ovvero andiamo a prendere la skin esclusiva per Dynamike Ovvero Dynamike Facchino Mi sono già la soglia 10 Molto buono Tra poco siamo al pacchettino, poi lo spacchetteremo Vabbè, faremo cosa Però prima cosa andrò a fare? Potere, wow, non l'avrei mai detto Però questa volta Dynamike non lo riscuota alla fine del video Ma questa è a metà perché lo vorrei fare Cioè lo vorrei usare in senso di potere Infatti oggi è giornata Dynamike Cioè proprio Dynamike go go a caso Allora, ahia Ho sbattuto Ahia E ovviamente, ripeto, andiamo con Dynamike Andiamo Faremo due partitozze con la skin di Dello Chef Poi ragazzi scoteremo la skin Faremo Cioè il test grafico E niente Andiamo a provare il set Di Power Allora Così Così Ok Così Va lì È vero Ok Ho già visto da qualche youtuber Cioè Come grande la volte Cioè Non la vedo Eh mamma Eh Ho killato tutti Ma come Attenzione perché qua Allora Stai faremo una piccola Nabatina Immaginate raga Doppio stun Prova la pam Prova la pam Prova la pam Ok 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 Uh 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 Ha attivato il gadujouette Attention Please Attention Comunque raga Fatemi sapere se vi piace La skin di Dello Chef Che è questo bello Perché cioè Quella là è esclusiva Eh Per carità È fighissima Però Cioè Questa qua Mi ispira un po' di più Non so perché Però raga Ovviamente Mi terrò quella Perché È stramega figa Forse non è ai livelli Del Brock Ma anzi Di più Perché Sicuramente Allora Non è ai livelli Di Brock Super ranger Però Non è neanche Ai livelli Di Eccoletto maligno Perché quella là Cambia animazione Cambia tutto Cioè Cambia le ali Le ali Non so se l'avete visto Sento Dalla partita Le ali Sono demoniache In quella Con Cioè in quella skin È fighissima Ah comunque È iniziata la nostra Stagione Vabbè A casa A casissimo Poi è l'ora Di arrivare Alla sogna numero 10 Così Apriamo il pacchettino E speriamo di trovare Una Relazione Epica Così Farò il video Cioè Metteremo nel titolo Video epico Uguale Relazione epica Se non trovo Relazione epica Faccio il clickbait Il clickbait Non so neanche parlare Non è vero scherzo Non farò Clickbait Sento Soglia 10 Per me È passato un giorno Da quando è uscito Il pass Soglia 10 Easy Arrivare la soglia 70 Raga Intanto mi si apre La barra Di cose Arrivare la soglia 70 70 giorni È easy Perché sarebbero 70 Cioè In un giorno Cioè Ogni giorno Una soglia Il fatto che Ecco Le missioni Anche se due Se ne posso fare Al giorno Se ne facciamo tutte Perfetto Così 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 Non uscirà mai più Nel negozio Tipo Due o tre volte All'anno Mi sembra Ogni due anni Mi sembra Uscirà Vabbè Bello Infatti L'ho preso Appena è uscito Appena è uscito Normalmente Non l'ho preso Quando l'ho detto Che l'archiviavo L'ho preso Perché volevo aspettare Non avevo le gemme Poi appena ho avuto le gemme Mi ha perso nel negozio E l'ho sciopato Intanto Seconda Seconda Dato che parliamo Ora ragazzi Andiamo a prendere La schiennetta Molto Bella Tre Due Uno Via Che figata Ho aspettato Un pozzo di giorni Per farlo Ovviamente Andiamo a mettere Instant Eccolo qua Allora Come Aspetto fisico Molto carino Perché qua Ci sono un pozzo di cose Uno di leone E E L'altro Vabbè Andiamo a provare Tanto Anche il gadget Dovrebbe essere cambiato Anche il gadget La cosa figa ragazzi È questo È le valigie Le valigie Che figata Che figata Le valigie No Ok 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 Ma dai Ho preso uno Ho preso per la prima volta Uno con le valigie Quindi Ora sto copiando Mr. P E no Non si copia La gente No Hai compiti Sì Però Scherzo Nemmeno hai compiti Se si copia Scherzo Ti ho un gadget Ma dai Ma dai ma Due win Però Non penso che Questa sarà win Perché ci stanno Sguagliando Cioè addirittura Il blocco È venuto Nella nostra base Non è morto Cioè provare A provare l'ulti Cioè Penso di no Perché c'è Non lo so Qua è tragica La situa Vabbè Nel caso Lo proveremo Nel campo di prova Ah nel campo di prova Ecco l'ulti Vabbè Quanto è grande Comunque ho tirato L'ho tirato anche Al caso E forse ho fatto anche cose Ok Buono Quante gemme No Non è che non ne ho presa Raga Cioè Comunque Stiamo facendo Delle partite incredibili Mentre io parlo Cioè io Quando sto in silenzio Che tra iardo Perdo tutto E mo Ho vinto due Che raga Due in singolo Schiaccianti Cioè In singolo più o meno In random Cioè È un botto raga Peccato che Non è andata Un altro palizziato Ora Dando Ora voglio andare a provare Il campo di prova Prima cosa È il primo gadget E voglio vedere L'animazione Di quanto salta Ok Animazione Di quanto salta Perché Penso che è molto carino Non l'ho ancora vista Allora Prima cosa È il gadget Eeeh Il gadget Cambia Vediamo qua No vabbè raga Gli si muovono le gambe Gli si muovono le gambe Aspetta Se così faccio Se vedete meglio No Gli si muovono le gambe No Che figata Che figata Tanto cambiamo tutto Vabbè ragazzi A niente Spero che Spero che il video Vi sia piaciuto E niente Ci vediamo In un prossimo episodio Ciao Ciao